Ho voluto dimostrare quello che c'è da aprile, la coppia Ferretti-Ferrario lì davanti ha creato un po' di confusione a mezzo l'aria. Sì, per fortuna è andata bene, siamo entrati in un momento della partita che c'era da spingere, abbiamo spinto e il risultato è al nostro favore. Il mister ci ha chiesto tanta profondità, tanta corsa, soprattutto a me, di darmi da fare in fase difensiva mettendomi dietro Carlo. Comunque credo che lo abbiamo fatto bene, siamo riusciti a potenziare la nostra parte difensiva e credo che il 3-0 è il frutto di questa cosa qua. Il mister diceva prima che ti ha chiesto di non giocare in linea con Ferretti, ma ti ha chiesto di fare anche da spunto per il secondo giusto. Sì, sì, mi ha chiesto di stare dietro Carlo in fase offensiva e in difensiva a cercare di dargli una mano al centrocampo con le palle lunghe e le seconde palle. Allora, sì, mi sono messo lì e quando hai voglia di fare, se ti trovi bene o male in un ruolo, o ti può piacere o meno il ruolo, o sei fuori il ruolo, come può capitare a me, che comunque è un ruolo che l'ho fatto ma non è il mio primo ruolo. Ecco, si fa, si fa perché siamo in una situazione che bisogna darsi da fare, darsi da fare tutti. Questa partita bisognava fare i tre punti e per fortuna li abbiamo fatti. Ecco, oggi il Modena ha fatto vedere che sa anche cambiare in corsa, sa rivoluzionare la squadra, la tattica e il modulo per arrivare alla vittoria. Sì, sì, l'hanno dimostrato nella prima parte, comunque siamo riusciti a creare tante palle e gol, poi la seconda parte, quando loro sono rimasti in dieci, abbiamo alzato un po' il valicentro difensivo del centrocampo, cercando di spingerli il più possibile verso l'aeroporta. Poi stare in partita a 90 minuti contro il Modena in casa non è facile, lo abbiamo dimostrato, ci sono Valdazzi, Valdazzi è entrato molto bene, ha messo la palla dietro e Marco ha fatto un gran gol. Da lì una volta bloccata sono venuti gli altri gol, poi siamo stati anche bravi, soprattutto Carlo a stare in partita dopo il rigore sbagliato che non è mai facile, è riuscito a stare in partita, concentrato e questa è la dimostrazione di quelli che sono entrati, che qua c'è un gruppo, qua si vuole fare, c'è un obiettivo.